Buongiorno, oggi voglio presentarvi un nuovo prodotto dell'azienda The Friendly Swede un'azienda svedese di cui già abbiamo parlato e abbiamo presentato diversi prodotti in questa semplicissima scatola nera possiamo trovare all'interno due marsupi perfettamente identici che nascono come marsupi portadocumenti o portasoldi sono semplicissimi come vi dicevo nel design ma molto belli come vedete c'è qui al di sotto il marchio dell'azienda davanti possiamo trovare due cerniere la prima resta una semplice tasca che possiamo trovare in qualsiasi tipo di marsupio la seconda invece è una tasca, non so se si vede, che porta altri scomparti qui possiamo mettere i soldi, i documenti, le nostre carte di credito la cinghia è elastica e ha la possibilità di adattarsi a qualsiasi tipo di girovita anche la chiusura è molto buona perché è fatta in plastica resistente dietro resta molto morbida e si adatta perfettamente al nostro corpo non dando alcun fastidio la cosa più positiva di questo prodotto oltre ad essere di buona fattura come tutti gli altri che abbiamo visto in precedenza di questa azienda è il 2x1 come si fa diciamo al supermercato in effetti con lo stesso prezzo invece di un singolo marsupio noi avremo due perfettamente identici questo lo possiamo utilizzare anche sotto la maglia per mettere i soldi nel momento in cui ci troviamo in mezzo alla folla non avremo paura quindi di perdere i nostri averi perché si camuffa molto bene sotto gli abiti essendo come vedete molto sottile quindi è consigliatissimo potete trovarlo su amazon a prezzi concorrenziali di consiglio questa azienda ve lo ripeto si tratta dell'azienda The Friendly Sweed ed è un'azienda svedese alla prossima ciao